Un mondo libero dalla povertà. Un mondo libero dalla fame. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile si ripromettono un futuro radicalmente diverso e migliore, che non lasci indietro nessuno. Purtroppo la povertà è maggiormente radicata nelle zone rurali più remote e per nutrire le persone più affamate del mondo bisogna cominciare proprio da quelli che svolgono attività agricole. Infatti nonostante i piccoli agricoltori siano responsabili dell'80% del cibo prodotto nell'Africa subsahariana e in alcune regioni dell'Asia, sono fra i più poveri del pianeta. La promessa di un mondo libero dalla povertà e dalla fame è nelle loro mani e nelle vostre. Vorrei ringraziare l'IFAD per il costante intenso impegno rivolto al miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali, dove risiede del resto la maggioranza di coloro che vivono oggi in condizioni di povertà. Con il sostegno di governi interessati, l'IFAD, Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite, ha sempre lavorato per realizzare la promessa degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ancora prima che fossero concepiti. Per più di 40 anni siamo stati lì, in alcune delle zone più remote del mondo, aumentando raccolti, mettendo in contatto i piccoli agricoltori con i mercati, promuovendo l'accesso a servizi finanziari, sviluppando migliori infrastrutture e mitigando gli effetti dei cambiamenti climatici. Attraverso i nostri progetti aiutiamo i piccoli agricoltori a modernizzare e commercializzare le loro attività. E lo facciamo garantendo i diritti delle donne e dei giovani, trasformando così le loro vite. Prima di unirci al progetto aspettavamo i soldi dai nostri mariti, ma da quando siamo in questo gruppo abbiamo un modo per vivere. Incastiamo il denaro delle vendite ogni due settimane e possiamo soddisfare le esigenze della nostra famiglia. Siamo così felici di avere questo lavoro. Offriamo soluzioni pratiche innovative che permettono la crescita economica rurale e ad oggi abbiamo investito più di 21 miliardi di dollari in prestiti e donazioni per migliorare le condizioni di vita di circa mezzo miliardo di persone in almeno 100 paesi. Ci hanno aiutato a preparare un piano di lavoro, hanno organizzato un viaggio di studio e ci hanno messo in contatto con altri produttori di Cassava per poter scambiare informazioni. Fanno talmente tante cose per noi che non riesco nemmeno a ricordarle tutte. All'IFAD siamo convinti che l'unico mezzo per assicurare la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile sia quello di investire in persone come lei. E grazie al sostegno dei nostri partners, governi, settore privato, fondazioni, ONG, l'impatto del nostro lavoro è ancora maggiore. L'IFAD ha le conoscenze, le capacità e il personale sul campo. Noi dal canto nostro possiamo portare i mercati, garantire l'offerta, gli standard di qualità, tecniche di gestione dei terreni che usiamo già per i nostri prodotti. Una soluzione sostenibile è possibile. La sfida è seria. I cambiamenti climatici, i conflitti, le disuguaglianze, la mancanza di impegno politico possono deludere le speranze delle nuove generazioni e mettere alla prova la volontà del mondo di attuare cambiamenti duraturi. Non possiamo fermarci ora. Un mondo senza fame, un mondo senza povertà è nelle nostre mani e alla nostra portata. Grazie a tutti.